Allora, io suono la chitarra, quindi potrei suonare qualcosa. Ho tanti obiettivi, tra i quali di tornare a ballare, dato che prima ballavo il pop e non ci ho mai riprovato per questioni di pratica, dato che è un po' più difficile. Però appunto perché dico sempre di un po' i limitri, vorrei provarci. Mi piace mettermi in gioco con me stessa, vedere dove posso arrivare e provare cose nuove. Questa protesi è anche dei led, cioè io ho il mio telecomandino e mi accendo le luci come voglio, al momento sono scariche. L'idea dei led è stata mia, poi il mio protesista la decora e poi la lavoriamo insieme, la ideiamo. Tipo mi piacciono un po' le cose eccentriche, quindi sempre un po' così appariscenti, diciamo. Come esibizione ho suonato Yello dei Coldplay e è stato abbastanza emozionante, infatti all'inizio mi tremavano le mani. Grazie. 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 Grazie.